Questa è la maglia di Zico, ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo in Giappone, siamo diventati amici, io gli dissi che lui era il mio idolo calcistico e dopo 20 giorni da mio rientro a casa in Italia mi arriva appunto questa maglietta con delle videocassette di tutti i suoi gol. Mi ricordo che si vedevano alcune partite del calcio brasiliano su delle tv, le prime tv private e spesso ovviamente giocavano, giocavano, giocavano di Flamengo e lui era il numero uno in assoluto. Mi piaceva come stava in campo, come si muoveva, la sua tecnica, il suo calcio di posizione, insomma, grande. Mi ricordo che aveva la capacità di mettere la palla dove voleva, da fermo calciava in maniera incredibile. Credo che questa è stata la cosa che mi ha colpito di più.